Ciao a tutti, benvenuti nel canale. In questo video di The Last of Us 2 vi mostrerò la posizione della combinazione dell'ultima cassaforte che avevo dimenticato di mostrarvi. La combinazione si trova qui dentro, quindi dobbiamo per prima cosa rompere il vetro ed entrare. Quindi prendiamo un mattone e rompiamo il vetro. Praticamente mi trovo dopo la sessione della barca, dove c'è la grande barca e voi dovete salire in alto praticamente. Poco prima dell'accampamento per intenderci. La combinazione è su una di queste pareti, è scritta su una delle pareti del camper. Eccola qui, 17 3807, ricordatevela a memoria 17 3807. Ora la cassaforte, come sempre, è vicina ed è praticamente dietro l'angolo. Qui, non appena girate l'angolo, c'è una crepa nel muro dove potete entrare e lì c'è la cassaforte. Eccola qua. E' mancabile questa cassaforte, come ho fatto io. Io l'ho mancata per sbaglio. Quindi decidiamo la combinazione. 17 17 Inserisci 38 Inserisci 07 E la cassaforte è aperta. Alla cassaforte è aperta. Alla cassaforte è aperta. Alla cassaforte è aperta. Grazie.